buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale oggi siamo a MS de Notre Dame sempre in Valle d'Aosta un altro posto che è una meraviglia ricordati sempre che se il video ti è piaciuto metti un like anche perché non ti costa niente clicchi e like è fatto poi se ti fa piacere ti iscrivi al canale e attivi la campanellina così non ti perderai le prossime avventure oggi siamo in un posto a dir poco fantastico adesso poi ve lo inquadrerò stiamo salendo perché andiamo a visitare lago lago bellaud pallaud è una roba del genere perciò vi inquadrerò da più in su siamo più o meno a 2000 metri più o meno ci sta da dio come aria come temperatura allora siamo quasi arrivati ci sarebbe da andare a visitare anche il rifugio delle marmotte però non ci possiamo andare perché essendo parco nazionale del gran paradiso c'è proprio il cartello che i cani non possono non possono accedere di qua possono venire dove siamo adesso però legati un po' di più Grazie a tutti. 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 Buon appetito. E il mangiare era veramente di alta qualità. Come vi ho detto quando sono entrati ho detto il cuoco mi sa che sa il fatto suo e difatti era così. Vabbè adesso ci spesso il viaggio per rientrare. Avremo 7-8 km da fare. Vediamo cosa c'è. perché 80 sono loro, perché sono 80. Anzi, 83 perché ne è appena passato uno in macchina. a meno, a meno che non è del posto, a meno, a meno che non è del posto, a meno che non è del posto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.